Buonasera signorina, buonasera, Maria Giovanna Elmi, vuoi fare il suo annuncio? Prendiamo un a caso? Sì, è lo che preferisce. Va ora in onda la rubrica Vita in casa, a cura di Giorgio Ponti, con la collaborazione di Francesca Pacca. Coordinamento di Fiorenza Fiorentino, conduce in studio Franco Bucarelli, regia di Claudio Triscoli. Vi diamo ora un cenno sui principali programmi della serata. Sul nazionale, alle ore 21, andrei in onda il programma AZ, un fatto come e perché, cui farà seguito da Milano e purtroppo ho preso l'annuncio sbagliato perché qui c'è scritto vedi l'annuncio dell'atletica mandato dal telegiornale. Sul secondo, alle 21.15 dopo il telegiornale, trasmetteremo la seconda serata di Un Disco per l'estate. Alle 22.30 andrei in onda il telefilm, trasferta in provincia. I nostri programmi sono per il momento terminati. Riprenderanno alle ore 17 con il programma per i più piccini. A più tardi. Grazie, buona sera. Grazie.